Salve e ben ritrovati a questa nuovissima puntata di Calcio Mercato Talk qui su canale Europa Sport dove andremo a parlare delle trattative più calde di questo calcio mercato invernale che sembra quasi un calcio mercato estivo per mettere un po' le pezze qua e là nelle nostre grandi squadre della Serie A e intanto a proposito di grandi io vorrei salutare il mio ospite Matteo Bellocchio troppo buono Petro, troppo buono, grazie e il nostro nuovo acquisto Luca Bellocchio grazie, grazie dell'invito ne hai due al prezzo di un esatto, stasera è affari di famiglia proprio esatto, capiamo il nome della trasmissione infatti partiamo dal calcio mercato agli affitti delle case il resto è real time, no se non sbaglio no, a parte gli scherzi ragazzi vorrei partire dove adesso stiamo entrando un po' nel vivo di questo calcio mercato siamo quasi alla metà di gennaio la termenovella Dragusin è finita e alla fine Napoli in un certo senso è stato beffato e la beffa però la sta avendo anche da Samartic e così sembrerebbe esattamente, e fa così sembrerebbe perché per l'ennesima storia come è successo già quest'estate con l'Inter il giocatore rischia di saltare a causa dei problemi legati al padre dalle commissioni della gente secondo voi è un problema proprio dovuto alla gestione del calciatore o a un problema dovuto all'ambizione del calciatore stesso magari allora ambizioni venendo dall'udinese credo che già in Napoli sarebbe stato sicuramente un upgrade e chiaramente anche in Inter quest'estate mi sembra ovvio detto questo quindi mi sembra più che altro un problema di chi lo gestisce tra l'altro è notizia anche di questi giorni ne parleremo probabilmente anche dopo non è l'unico caso di agenti che non mi sembra facciano sempre il bene dei loro assistiti e a volte spesso questi agenti sono anche i genitori o comunque dei parenti dei calciatori per cui non so bisognerebbe vedere se al centro ci sono le richieste economiche o effettivamente le volontà in questo caso dei calciatori perché Samartic penso che sarebbe andato volentieri a Napoli se non avrebbero neanche in Inter no anche perché comunque la trattativa da quello che sembrava Luca era molto ben avviata il Napoli sembrava che aveva già trovato un accordo con l'udinese per 20 milioni più 5 di bonus poi non è ancora passato non era ancora stata accettata definitivamente la trattativa ma per l'ennesima volta in questa situazione il ragazzo serbo rischia di rimanere contro voglia all'udinese secondo te è un bene per la sua carriera? hai detto bene Peppe sembrava chiusa sembrava che il ragazzo dovesse andare a Napoli come sembrava che dovesse andare all'Inter quest'estate e ti dirò non penso che si debba parlare tanto di carriera perché il ragazzo è giovanissimo quindi si debba avere due problemi a sfondare un 2002 il talento ce l'ha secondo me deve ritrovare un po' quella spenseriatezza che prima di quest'estate si vedeva comunque quando scendeva in campo mentre in questo primo lasso di stagione a parte qualche giocata estemporane mi viene in mente il bellissimo gol al Napoli che ha fatto che tra l'altro adesso l'ha voluto comprare non a caso io non ho visto delle grandissime prestazioni e tra l'altro non mi sembra neanche che il giocatore abbia il posto fisso e anche perché comunque Cioffi in questo momento gli preferisce Pajero e Lovic come Vezali con Wallace vertice basso e quindi fatica a trovare leggevo in questi giorni che Samartic da quando è arrivato a Udine ha fatto solamente sette partite da titolari e solamente due le ha finite tutti in tutti i 90 minuti certo è un prospetto giovane ricordiamolo pur sempre un 2002 a 21 anni quindi ha modo e tempo di formarsi ma vorrei rimanere sul tema Napoli dicevamo il Napoli è beffato anche per la questione Dragosin il Napoli aveva spinto tantissimo sul difensore rumeno ex Juve e adesso ex Genova è arrivata pure l'ufficialità del passaggio al Tottenham in questo momento gli obiettivi sono Luen Perez e Martinez Quarta secondo voi e secondo te Matteo è il genere di profilo che può servire per dare la svolta al Napoli? diciamo che sono due giocatori pronti che giocano già in Serie A per cui sicuramente potenziali titolari mi sento di dire che non hanno quella allure che avrebbe avuto Dragosin cioè Dragosin mi sembra quel giocatore per l'amore del cielo magari poi non si rimaneva tale ma potrebbe essere un potenziale crack per il futuro Neon Perez e Martinez Quarta mi sembrano dei giocatori da carriera nella media non penso che nessuno dei due diventerà un fenomeno questo è il senso quindi se il Napoli ha bisogno di sostituire Juan Jesus entrambi sarebbero un upgrade se invece mi stai chiedendo se in generale il primo futuro sarebbe un buon acquisto potrebbe essere uno dei due beh però è un Luca Rosso se tese d'accordo sarebbe un acquisto per tamponare un po' quella scelta di Nathan che in realtà non si era rivelata sbagliata la scelta di Nathan infatti io vado controcorrente secondo me Nathan è la scelta giusta nel senso che cosa dovrebbe fare in questo caso il Napoli secondo me pensare di più al campo e meno al mercato perché il mercato che ha fatto il Napoli io a parte Lindstrom che è ancora un po' un oggetto misterioso noi non l'abbiamo ancora visto bene questo ragazzo io non ho visto male le prestazioni di Nathan cioè non penso che sia Nathan il problema del Napoli adesso e non penso neanche che un Martínez Quarta della situazione o un Peres sarebbe la soluzione perché non li vedo così tanto superiori al fatto che sono giocatori di grande grandissima personalità anche perché il Napoli in questo momento a inizio campionato ha giocato tanto Ostigard no? Ostigard dimostra di avere un po' di rivenza quella voglia ma dopo i primi errori è calato drasticamente a livello di mentalità soprattutto dove a volte cercava l'anticipo un po' troppo in avanti e si infilavano da dietro gli attaccanti lasciando quel buco che portava il Napoli a soffrire un difensore come Noem Peres come Martínez Quarta sono giocatori che sai ti danno quella solidità che in un vostro momento non hai anche perché Nathan ci vorrà ancora un mesetto prima che rientri e ancora due o tre settimane prima che ritorni in forma no? cioè è una roba su quel livello lì secondo me che il Napoli possa avere bisogno di migliorare in tutti i ruoli per questi sei mesi e per il futuro questo è chiaro che poi questi nomi rispetto a Dragosin ripeto possano essere paragonabili secondo me no però è il mio parere personale cioè sono un gradino sotto anche a livello di press mi sento di dire costano anche meno di Dragosin quindi motivo ci sarà a proposito di confusione vorrei chiudere il capitolo Napoli con la querelle che c'è stata tra Ozyman e la gente di Paraschelia e Luca te che ne pensi una bufera posta ancora più tempesta diciamo che stendere un velo pietoso sarebbe meglio però sicuramente è un episodio che merita che merita un commento dove sicuramente tutte le parti in causa hanno sbagliato perché in primis ha sbagliato la gente di Paraschelia che ha fatto un'uscita sicuramente fuori luogo e secondo me ha sbagliato anche Ozyman a rispondere in questo modo così aggressivo poteva tranquillamente smentire tutte le voci senza attaccare in questo modo personale la gente di di Paraschelia però Matte secondo te ha dato un'indicazione importante di mercato o no? ma io ti dico la verità Peppe sarò abbastanza transciante su un tema la trovo l'ultima cosa di cui avesse bisogno Napoli in questo momento cioè già è una situazione complessa dove Napoli chiaramente sta performando molto ben giù di quanto ci si aspettasse non sta neanche provando a difendere il titolo è fuori in Coppa Italia in Champions League è passato ma di certo non offrendo il calcio spumeggiante che ci ha regalato l'anno scorso questo genere di siparietti sarebbero da evitare quindi in primis errore del primo attore di questa vicenda quindi la gente di Caraschella che dovrebbe parlare del suo assistito e non degli altri per fare paragoni non lo trovo neanche molto corretto però poi anche la risposta di Ozyman è stata una risposta da ragazzo un po' immaturo ecco che non è stato neanche forse consigliato bene e poi infatti il comunicato di Calenda che è seguito la dichiarazione di Ozyman che è stato molto meno di pancia molto più razionale e quindi scritto da un professionista quindi quello fa la differenza Ozyman in quel momento avrebbe dovuto urlare da solo ma non scrivere sui social perché purtroppo i social sono un po' un'arma doppio taglio lo sappiamo e anche in questo caso la vicenda ce la dimostra anzi in proposito di social per chiudere su Napoli c'è stata quella bruttissima quella bruttissima uscita su TikTok quando aveva sbagliato a rigore contro Boronia ma qualcuno mi sa che gli è stato licenziato no anche più di uno no comunque a proposito a proposito di licenziamenti cose che dovrebbe fare Samartic con suo padre però il serbo siamo cattivelli dai si saltano due trattative con due grandi squadre qui diciamo quello che pensiamo quindi esatto ma dove alla fine si dì almeno un momento sembrerebbe in vantaggio la Juve ma solamente per Giulio in bianco e nero fanno bene a puntare su un serbo a questo punto perché giunto lì avrebbe già in tasca l'accordo col padre che in questo momento a quanto fare sembra lo scoglio più difficile ma deve trovare ancora la quadra con l'Udinese ma siccome è una trattativa che porteranno a termine a giugno secondo voi è la strada giusta per la Juve a parte della Teruca ovviamente Winoghia è un talento cristallino lo si vede dalle giocate che fa lo si vede dai gol anche che ci ha fatto vedere l'anno scorso anche quest'anno al Napoli però deve trovare continuità è un ragazzo molto giovane della classe 2002 che secondo me deve ancora affermarsi anche in una squadra come l'Udinese non è ancora il leader dell'Udinese pensiamo quando è andato via De Paul De Paul era il leader dell'Udinese Samardic ancora quasi non è neanche un titolare inamovibile quindi la Juve farebbe bene assolutamente sì perché il ragazzo è un potenziale fenomeno secondo te è uno sgambetto al Napoli o è un tentativo proprio su cui avevano un discorso ma allora la Juve gli sgambetti li fa un po' a tutti cioè è anche un po' il gioco delle parti per provare a mettere Zizania adesso abbiamo visto anche quella trattativa Popovic con Milan ce la parleremo tra un po' non anticipare no 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 la trattativa Thiago Jalot con l'Inter cioè ci sono alcune che sicuramente la Juve è veramente interessata e alcune sono solo manovre di disturbo però questa sta anche nella braura dei dirigenti di disturbo in questo momento no Jalot adesso avrà anche il discorso Popovic perché anche c'è lui una manovra di disturbo però il fatto che comunque si parlava della possibilità che l'ex Milan potrebbe arrivare già a gennaio anticipando nonostante sia ancora infortunato sembrerebbe che ne avrebbe fatta la trattativa per il contratto sì il problema è che bisogna trovare d'accordo con l'Inle un'azione di disturbo a un acquisto vero e proprio è una scelta sensata cioè in questo momento il mercato della Juve come lo valutereste il mercato della Juve in questo momento è pressoché fermo nel senso che ad oggi l'unica operazione che mi risulta andata in porto è quella di Thiago Jalot per anticiparlo all'Inter che l'aveva già chiuso per giugno e di conseguenza sì 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 non parlavo di settore giovanile ma più di potenziali titolari quindi Jalot a me risulta chiuso per 3 milioni e mezzo più 3 milioni e mezzo di bonus ok quindi non tutti facilmente raggiungibili quindi diciamo che l'indennizzo è abbastanza minimo considerando che però il ragazzo sarebbe andato a zero all'Inter quest'estate quindi sicuramente questa è una manovra di disturbo per un giocatore interessante che non ha mai fatto cose incredibili però a quella cifra può essere un'occasione di mercato che è un po' un hashtag che si usa di questi tempi occasione di mercato visto che le nostre povere squadre italiane non hanno queste grandi disponibilità per quanto riguarda Samardic come giustamente diceva Luca mi sembra un talento su cui investire sono perfettamente d'accordo con il discorso che però non è un ragazzo di grande personalità quindi mi chiedo in una squadra come la Juve che ha bisogno di giocatore di personalità è la figura giusta o rischia di perdersi ulteriormente in una squadra ancora più grande della dimensione dell'Udinese perché comunque avrebbe una grandissima concorrenza è un ritorno di fagioli poi e soprattutto bisogna un po' capire in che direzione andrà anche la vicenda Aramio bravo esatto è quello perché comunque il francese è in scadenza certo e questo è un dato di fatto le trattative con la Juve per la mamma di Rabiot non sono ancora partite non è ancora il punto cardine della situazione però comunque da febbraio Rabiot potrebbe mettersi d'accordo con un'altra squadra guarda io penso che Rabiot esattamente come è stato l'altro anno valuterà se ci saranno occasioni migliori della Juventus io mi dispiace dirlo in maniera così chiara ma credo che l'anno scorso sia rimasto la Juventus unicamente perché non è arrivata l'offerta che la mamma di Rabiot si aspettava dallo United dello specifico quindi è rimasto la Juventus più per convenienza che peraltro infatti ha fatto questo rinnovo ponte di un anno quindi quest'anno si ripresenterà la stessa identica situazione sono d'accordissimo anche perché Rabiot non ha mai performato come ha performato nello scorso anno e anche in quest'anno sta comunque giocando molto bene io penso che sia il faro del centrocampo in questo momento che ha la Juventus in rosa la Juventus perderebbe un tassello importantissimo nel caso in cui il giocatore non dovesse rinnovare quindi assolutamente deve cercare di tutelarsi per evitare comunque di rimanere scoperta nel caso in cui Samarzic sarebbe l'alternativa a Rabiot però non vedo Samarzic allo stesso livello di Rabiot che stiamo vedendo quest'anno e l'anno scorso assolutamente no quest'anno è leggermente un po' in pressione rispetto all'anno scorso anche se sta dando quella quantità in cui aveva un titolare fisso da Juventus anche perché trova bene uno meglio quello che diceva Luca prima è giustissimo Samarzic delle volte non è titolare neanche l'udinese perché comunque Cioffi preferisce dei giocatori con caratteristiche diverse questo però dovrebbe farci muovere delle domande e dovrebbe far muovere delle domande anche sulla valutazione del calciatore perché anche i dati che hai detto tu prima sono molto interessanti quando andiamo a valutare quanto vale un calciatore è vero che abbiamo tutti negli occhi nelle giocate più belle di Samarzic poi dobbiamo anche ricordarci del quando sta in panchina quante insufficienze prende in pagella diciamo non mi ricordo se l'anno scorso è stato il secondo il terzo giocatore ad essere più volte superentrato ma l'anno scorso ci stava quest'anno me lo aspettavo in questa udinese tra l'altro modesta a livello di Rosa me lo aspettavo titolare inamovibile invece così non è stato anzi è arrivato Paiero che ha scommilato un po' le carte a proposito di carte scommilate il Milan ha seguito più o meno la stessa linea del Napoli per quanto riguarda Popovic come dicevamo prima la Juve si è inserita ha provato l'azione di disturbo ma il Milan oltre all'azione di disturbo della Juve sembra aver già fatto tramontare la trattativa prima del tempo perché comunque per il giovane trequartista serbo c'è stato più o meno la stessa problematica di Samarzic le commissioni altissime richieste dall'agente per scegliere in Milan quando prima di Natale sembrava già tutto fatto doveva essere solamente una pura formalità l'arrivo del giocatore intanto però il giocatore a Milano ma secondo voi è un problema di agenti perché questa roba qua è una cosa che si ripete molto nell'ultimo periodo e si era parlato molto tantissimo di limitare gli agenti mettere un tetto la clausola del 10% massima secondo voi queste situazioni degli agenti sta sfuggendo definitivamente di mano o no o il gioco delle parti sicuramente un po' sì poi io ho letto anche che il giocatore è arrivato a Milano senza il consenso del Milan quindi anche questa mossa comunque può avere un po' indispettito i dirigenti del Milan perché non abbiamo ancora trovato l'accordo definitivo e tu fai arrivare il giocatore a Milano mi sembra una mossa quasi per mettermi pressione che non deve essere stata proprio vista di buon occhio inoltre io vorrei fare un brevissimo excursus sul giocatore di sé perché io ammetto onestamente non l'avevo mai visto giocare e nemmeno lo conoscevo perché comunque è un giocatore che giocava nelle giovanili del Partisan di Belgrado quindi neanche in prima squadra ma se 2006 2006 sicuramente molto molto forte perché ho visto anche qualche video ho fatto i compiti e sembra un piccolo Milinkovic Savic cioè molto alto molto tecnico però comunque è un giocatore giovanissimo che andrebbe inoltre a riempire l'unica l'ultima casella degli extracomunitari del Milan quindi è veramente quello di cui ha bisogno il Milan adesso prendere questo giovane cioè non potrebbero esserci degli degli siettivi forse in questo momento un po' più prioritario anche perché adesso si libera un posto a centrocampo perché Radekrunic è praticamente ufficiale al Federvic per 5 milioni di euro no Vattel sì allora tornando su Popovic volevo fare un paio di specifiche importanti allora giustissimo quello che ha detto Luca il ragazzo è arrivato a Milano senza il consenso del Milan e questa cosa inizialmente non è stata percepita perché ovviamente siamo tutti abituati che il calciatore arriva a Milano con convocazione della stampa di comune accordo con la squadra ok il fatto che questa volta Popovic sia arrivato a Milano senza aver avvertito il Milan ma il suo entourage abbia avvertito alcuni giornalisti ha molto indispretito il Milan perché esattamente come stava dicendo Luca si è trovato in una situazione di quasi costrizione ad andare di andare a chiudere la trattativa per non essere in difetto nei confronti dei tifosi anche perché di questo Popovic se ne parla ormai da mesi si è aspettato che facesse 18 anni li ha fatti l'altro ieri per firmare il contratto quinquennale perché sennò sapete che quando sei minuto non puoi firmare per più di un tot di anni per cui questa cosa è stata vista molto di cattivo occhio dal Milan che si è indurito nella trattativa e il colpo di grazia è stato dato dagli agenti che sembrerebbe abbiano richiesto 2 milioni di euro di commissioni per chiudere il ragazzo visto che parliamo di un 18enne con zero presenze zero numero zero presenze tra i professionisti mi sembra veramente veramente troppo per cui mi sento di capire la posizione del Milan è chiaro che gli agenti una volta in Italia hanno provato a ripiazzarlo e quindi è subentrato da Juventus perché il ragazzo sembra veramente un giocatore di talento e per il Milan doveva essere un po' un'operazione alla Calulu se ve lo ricordate che veniva dalle giovanili del Lione a zero anche lui è stato pagato soltanto le commissioni no sì le commissioni degli agenti e i diritti di formazione che sono quelli per il passaggio all'interno di una squadra giovanile da un'altra esatto quindi sono una tassa fondamentalmente da pagare che giustamente viene riconosciuta al club che ha formato il ragazzo nonostante si versa ancora adesso anche alle varie squadre è giusto perché è quella che tante volte fa stare in piedi le piccole squadre per cui è giustissimo questa cosa secondo me anzi dovrebbe essere probabilmente anche migliorata detto questo la trattativa sembra sfumata 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 era sfumata quest'estate adesso ve lo voglio riportare perché secondo me è un punto focale in questo momento del mercato del Milan Kronic per 5 milioni passa al Federme questa estate l'ha saltato tutto adesso si è arrivati alla conclusione di questa trattativa quei 5 milioni che ha come valutazione Niasu del Sevilla il difensore che tanto potrebbe servire al Milan secondo voi il profilo ideale Matteo parte da te allora innanzitutto lui è stato seguito dal Milan anche lui a parametro zero perché lui era delle giovanili del Paris Saint Germain è stato preso poi sembrava che lo prendesse il Milan a parametro zero invece poi passò al Bayern di Monaco ok quindi il Milan è già stato su questo giocatore in passato al Bayern di Monaco non ha avuto fortuna è andato al Sevilla non mi pare che neanche al Sevilla stia performando così tanto tra l'altro è un Sevilla che è messo malissimo in classifica quindi io mi chiedo un giocatore che non sta facendo bene al Sevilla che lotta per non retrocedere nella Liga può fare le fortune del Milan secondo me no Luca guarda perché comunque un compagno di reparti niente male potrebbe hai detto hai anticipato quello che che stavo per dire anche io ho visto che ha collezionato 110 minuti in Liga quest'anno a Niasu in una squadra che sta lottando per la retrocessione quindi comunque diciamo di gol ne avrà incassati e di occasioni di fare meglio di quelli che stanno giocando titolari magari qualcuna gli è stata anche data o in allenamento diciamo lo vedrà nell'allenatore e l'avrà valutato anche perché comunque dovrebbe giocare a posto di Sergio Ramos se non sbaglio anche l'ultimo di destro sì Sergio Ramos è stato un grandissimo difensore ma ormai è un po' alla fine della sua carriera bella romantica la storia di lui che torna a Siviglia però è un giocatore che forse è un ex carciatore è un ex carciatore se vogliamo chiamarlo così ma a proposito di ex sembra diventare diventando ex inter Stefano Selsi per due milioni dovrebbe essere sulla base dei due milioni per passare all'Eister di Maresca in championship secondo voi è un un cacciatore disfortunato o che non è stato in grado di imporsi all'Inter ma allora lui si è imposto all'Inter appena arrivato perché comunque appena arrivato ha fatto un paio di mesi che sembrava un fenomeno sembrava veramente segnava anche tantissimo segnava sostanza non è all'inizio quest'estate era tornato scusatemi ho sbagliato nel modo di porvi la cosa nel senso la mia riflessione era dovuta a questa roba qua Selsi era tornato all'Inter dopo il prestito al Monza dell'anno scorso doveva essere inserito nelle rotazioni di Inzaghi ha avuto qualche piccolo problemino all'inizio però poi non è che abbia avuto chissà che i grandi infortuni però sia in Coppa Italia che nelle partite nelle rotazioni gli è sempre benvenuto Krasen a Selsi comunque Selsi lasciamo stare l'anno scorso che è stata una stagione sfortunata ha passato più tempo in infermeria che in Purtroppo non è abbastante della carriera di Selsi purtroppo lo dico perché sembra un ottimo giocatore Eh appunto ma secondo voi è stato più un problema suo nell'inserirsi all'Inter quest'anno Sicuramente prova 1 prova 2 prova 3 anche un po' la fiducia di Selsi stesso immagino che non sia proprio ai massimi storici poi si trova comunque in una squadra che ha ambizioni diverse da quella dove lui era arrivato inizialmente e io penso che lui non si senta più parte del progetto interno perché era una scadenza del 2 a giugno esatto non penso che nessuno gli abbia mai proposto un rinnovo all'interno dell'Inter quindi secondo me lui per primo non ha più tante motivazioni e non è più tanto in fiducia poi comunque il centrocampo dell'Inter aveva centrocampo di assoluto valore dove Fratesi per primo fa fatica a giocare con continuità quindi è stato diciamo se le discrezioni sono giuste addirittura si persa un passaggio di Mkhitaryan in attacco dove si aprirebbe così un po' di spazio per Fratesi e centrocampo visto che comunque l'attacco dell'Inter ma le seconde non convincono ancora a Piero si continua a parlare di questo attaccante adesso si è proposta questa soluzione di mettere Mkhitaryan sulla linea degli attaccanti occasionalmente non sempre magari a partita in corso o nel momento in cui magari il giocatore almeno riposerà però continua ad esserci l'ipotesi Taremia anche alle spalle te che se ne pensi la questione a tanto dell'Inter ma allora che l'Inter abbia o meno possa aver bisogno di un attaccante che faccia rifiatare Lautaro e Taremia mi sembra abbastanza sotto gli occhi di tutti detto questo probabilmente ci si aspettava di più da Arnautovic in premis e anche da Sanchez forse Sanchez è un'operazione che se fossi il direttore sportivo non avrei fatto ma anche per i connotati con cui si erano lasciati devo dire la verità non so io penso sempre che le minestre riscaldate non funzionino e visto che si erano addirittura lasciati con un contenzioso non so non avrei richiamato Sanchez però evidentemente avranno avuto le loro buone ragioni però ascoltando pensando a quanto dice Vidal è impossibile che Sanchez non giochi in questa Inter un giocatore come lui Vidal non è nuovo ha uscite fuori luogo e anche questa volta ha perso un'occasione per tacere quindi al di là di questa cosa che mi sembra francamente un'uscita totalmente a gamba tesa come ci ha abituato in carriera mettiamola così quindi ti darei su un cartellino rosso per gli alternativi io lo darei per il cartellino detto questo detto questa probabilmente sai quando poi comincia ad annoiarti dai un po' di fiato alla bocca e con i social arriva in tutto il mondo in un secondo detto questo sicuramente Arnautovic spero che possa fare meglio per aiutare comunque l'Inter a dare un po' di rotazione in avanti Taremi sappiamo perfettamente che l'Inter gli ha già offerto un contratto triennale in scadenza quindi per giugno non credo che verrà anticipato perché non penso che il Porto se ne priverà a questo punto se se l'è tenuto l'estate scorsa non penso che lo mollerà adesso quindi a meno che ci stupisca Sanchez e vada via io penso che l'Inter rimara così e come dicevi tu potrebbe essere una soluzione adattare Mkhitaryan a seconda punta anche perché ricordiamo che Mkhitaryan ha avuto forse la sua migliore stagione realizzativa quando alla Roma giocava un po' da trequartista a seconda punta faceva un sacco di gol anche perché è un giocatore che ha grande qualità comunque in carriera è un ruolo che ha già rivestito sia il Dortmund sia l'Arsenal gli anni passano per cui sì no era un altro Mkhitaryan e adesso l'Italia ancora strappo gioca ancora Mkhitaryan per me è stato un acquisto ottimo dell'Inter l'Inter è molto attenta su quelle situazioni lì però il giocatore adesso ha 35 anni se non sbaglio quando le giocava al Dortmund e all'Arsenal era nel pieno della carriera prendeva pure 12 milioni a stagione all'Arsenal se non mi ricordo male è un altro mondo però per per chiudere per chiudere il capitolo Inter per un centralampista che esce a giugno ne potrebbe arrivare un altro sembra quasi chiusa da stand alle indiscrezioni la trattativa prezzi nischi da 4 milioni e mezzo a stagione secondo te è lungimiranza questa? allora lungimiranza in che senso? no nel senso che comunque lungimiranza verso il prezzi parlando parlando no parlando di Mkhitaryan comunque abbiamo detto dei 35 quando vuoi connegano a questa roba fa Zielinski quest'anno compirà 30 anni maturità calcistica pieda ha bisogno di una svolta sia a livello mentale che di carriera secondo me Zielinski è il prototipo dell'acquisto di Marotta all'Inter nel senso che parametro zero giocatore comunque prontissimo che conosce benissimo la Serie A che dà ampie garanzie tecniche è un giocatore su cui secondo me non ci si sbaglia detto che poi non viene per fare per forza il titolare ma viene per entrare nelle rotazioni tra l'altro un centrocampista che esce in realtà ne stanno uscendo due perché Agumet è anche uscito e non è detto che torni indietro perché comunque Siviglia ha un diritto di acquisto però anche lui comunque è un giovane classe 2002 sta facendo le sue tappe per poi capire se si riuscirà mai ad affermarsi nell'Inter per ora non c'è mai riuscito anche giustamente perché ha davanti dei concorrenciatori Zilinski direi che secondo me è un'operazione che si farà abbastanza diciamo al 90% a questo punto perché non sembra assolutamente intenzionato a rinnovare con il Napoli e io penso che sia un acquisto assolutamente azzeccato per quanto riguarda il capitolo attaccante invece io sono abbastanza convinto che l'Inter non farà nulla in questa sessione invernale e ti dico di più sono convinto che l'Inter abbia ancora molta fiducia in Arnautovic e Sanchez perché comunque in Arnautovic ha anche investito e non mi sembra comunque che Sanchez abbia per forza manifestato questi mal di pancia che ha manifestato Vidal al posto suo che ha fatto da portavoce perché comunque è ok che è difficile stare sotto Lautaro e Turam però anche quando sono chiamati in causa io mi ricordo comunque un paio di gol in Champions League di Sanchez Arnautovic ha avuto un lungo infortunio adesso comunque ma la domanda sorge spontanea però dopo i gol che si è mangiato contro il Verona no una partita sfortunata dici che sono qua anche perché non è l'Austria l'Austria se non sbaglio ha fatto uno o due gol in tutta la stagione sembrava uno in campionato o uno in Champions esatto sicuramente ha avuto un lungo infortunio e sicuramente poteva fare di più però non mi viene neanche da dire che ha fatto così male da essere già bocciato perché comunque non deve essere lui che tira la carretta cioè lui deve essere ma deve entrare nelle rotazioni assolutamente sì ma infatti adesso vedrai che con quelle partite di Champions ci saranno molte più rotazioni e lì dovrà dare quello che per cui è stato preso anche perché è una delle cose che gli si impunta ad Inzaghi gli si imputano ad Inzaghi scusate ci mancherebbe ha messo per uscire un'altra roba era bruttissima e quindi è uno dei problemi per cui l'Inter adesso sta faticando a proposito di fatiche vorrei andare dalla Roma di Giuseppe Mourinho in Coppa Italia ha faticato tantissimo ha creato praticamente un'unica occasione su quella mezza girata di Lukaku mi sembra che alle statistiche siano due tiri in 90 minuti esattamente quindi abbiamo un grande problema soprattutto nella produzione offensiva e secondo la Roma uno dei problemi della produzione offensiva può essere il Gallo Pelotti ma il Gallo Pelotti ha richiesto in serie B tanti richiesti in serie B poi giustamente ce n'è qualcuna in A ma secondo voi uno come il Gallo Pelotti a 30 anni merita di finire in B Matt? no sinceramente no e con la moria di attaccanti che abbiamo in serie A credo che Pelotti potrebbe fare tranquillamente il titolare in almeno metà delle squadre della serie A tra l'altro la Roma che ha un Di Bala che ahimè perché sono non so grande stimatore però sempre infortunato Lukaku mi sembra che sia in una fase un pochino di flessione Azmoun è andato in Coppa d'Asia per cui presumo che domenica giochi esattamente Pelotti la Roma non può farne a meno di Pelotti o comunque se anche non dovesse giocare a titolare perché mettiamo che Mourinho scelga di far giocare per esempio il Sharabi o comunque di affiancare con una seconda punta Pelotti è l'unica alternativa che hanno quindi non penso che si muoverà ma in ogni caso fossi lui non andai mai in Serie B perché non mi sembra eccessivo e hanno un messaggio secondo te uno come Pelotti dopo assolutamente Pelotti ci ricordiamo tutti quello che ha fatto a Torino l'anno scorso l'anno scorso comunque il problema è che da quando è arrivata la Roma aveva già iniziato a dare segnale di questa involuzione a Torino era passato dei 23 gol se non sbaglio nella stagione che sono stati il suo picco col Torino poi è sceso in Fortuni nell'ultimo anno è andato via a zero l'anno scorso la Roma non ha fatto un gol cioè nelle statistiche è rimasta la casella zero in campionato è un giocatore che era passato benissimo a inizio campionato e poi si è di nuovo perso allora secondo me ha sofferto un po' il fatto di non essere mai stato un titolare per la Roma cioè lui è arrivato ma è arrivato per fare il subentrante e per uno abituato ad essere il faro assoluto della squadra in cui giocava capitano capitano secondo me detto che non avrebbe mai dovuto andarsene ma questo è un altro discorso perché vale sempre il dove stai bene resta però ci sta che lui avesse ambizioni di fare il salto di qualità secondo me poteva aspettare un'occasione diversa dove essere più protagonista arrivare in una squadra dove comunque sei visto come una seconda scelta già ti mette in una condizione diversa di una condizione mentale diversa cioè secondo me lui non ha mai ritrovato la forma mentale in questa Roma la forma che invece a Torino aveva aveva assolutamente quindi rilanciarsi in una squadra più bassa secondo me è la scelta giusta non così tanto bassa però e a proposito di Granata ma no Berotti sarebbe seguito è una delle possibili soluzioni per la Salernità che cerca un'alternazione cerca un aiuto davanti perché non segnano segnano di A che l'anno scorso l'ha fatto benissimo quest'anno purtroppo ha un po' di mal di pancia un balanzolà in questo momento ha un problema col buon si è visto guarda sai che secondo me tutti questi attaccanti e ci metto dentro anche Belotti perché sposo il ragionamento di Luca hanno tutti un problema fisico cioè mentale perdonami hanno tutti un problema mentale cioè l'attaccante è molto legato al concetto della fiducia del segnare del sentirsi all'interno di un progetto quindi a mio avviso questi attaccanti hanno perso un po' tutti fiducia hanno perso tutti contatto un po' con la porta quindi probabilmente nessuno dei tre è un fenomeno e non sarà mai ok però sicuramente tutti e tre possono fare molto meglio di così dici che è un problema quindi il problema grosso è la personalità è per il fatto è quello perché comunque io volevo arrivare in uno come Enzola ritrova italiano che l'aveva fatto esplodere se l'è portato dalla serie C alla serie A dove aveva fatto sfraceli con la Spezia arriva a Firenze per tornare a fare quel gioco che tanto era bravo a fare no? Enzola è proprio un attaccante da squadra piccola perché è un attaccante che ha dei mezzi unicamente fisici e quindi può giocare in una squadra che deve salvarsi una squadra da quindicesimo al ventesimo posto la Fiorentina sicuramente anche perché a Firenze vengono da Vlaovic non ce lo dimentichiamo quindi sono di bocca buona ultimamente per non andare ancora più indietro a Mattistuta e attaccanti di questo tipo quindi hanno attaccanti che tendevano a gravissimo Luca Toni a finalizzare con grande continuità perché la squadra del gioco italiano sono volti a far segnare l'attaccante infatti quest'anno non ha mai segnato così poco la Fiorentina se non segnano Nico González e Buonaventura non segna il suo beh non c'è da dire che Bertrand il suo piccolo esplorato lo sta facendo gli attaccanti solo adesso però ha iniziato neanche lui no per Bertrand è una situazione diversa io gli do qualche attenuante in più nel senso che lui arriva da un grandissimo campionato fatto in Argentina arriva da River Plate si trova in questa situazione dove l'anno scorso la Fiorentina ha avuto quel problema lì dell'attaccante quindi si dà pressione la pressione per inserirsi nel contesto la pressione per adattarsi al contesto sono passati due o tre mesi dategli tempo ha iniziato a segnare in Europa League adesso sta iniziando a segnare con un po' più frequenze in campionato anche se è corso a suolo stava per fare un euro goal con quella girata forse un po' troppo debole però quindi tornando chiudendo il discorso e chiudendo sul discorso attaccante poi chiudiamo cosa ne pensi Luca? io penso che in questo caso il problema di Isola oltre che essere un problema mentale e di pressione di una piazza più grande dove comunque non era abituato è anche un problema di limite tecnico è un giocatore comunque che secondo me ci ha fatto vedere tutto quello che poteva fare allo Spezia e non penso che ci possa far vedere altro quindi penso semplicemente che adesso il suo livello sia tornato a quello che è il livello standard del giocatore che possa sicuramente migliorare quello che ci ha fatto vedere che è poco nulla che però non è un campione qualche milioncino l'hanno pagato però bisogna sempre ricordarsi anche quello 10 milioni penso io non li avrei spesi o quantomeno non li avrei spesi se fossi stato nella Fiorentina ma è stata una specie richiesta di italiano dove comunque lo Spezia era andato in Serie B è affezionato conservava un ricordo magari esatto nella testa di italiano doveva essere quello lì che al momento risolveva uno era la punta fisica e l'altro era la punta tecnica lui avrebbe coperto la falla almeno inizialmente finché Bertrand non si fosse inserito esatto e quindi andava su un usato garantito un po' come Zappata un po' come Zappata al Torino sì però Zappata è un giocatore tutt'altra levatura ma Zappata è un grandissimo attaccante salutiamo Zappata ciao Duvan ti ho vado a Napoli tantissimo con questo bellissimo saluto saluto anche voi ragazzi possiamo chiudere grazie Peppe grazie a Matteo per l'occhio grazie a Luca per l'occhio io vi ringrazio per l'aventi seguito in questa nostra bellissima puntata un saluto da Giuseppe Graziano e ci vediamo a settimana prossima